1 e 4 minuti, 2019 Emanuela Longo Giacomo Battaglia, l'attore che faceva coppia con il collega Gigi Miseferi e per oltre 30 anni protagonisti del celebre due comico, è morto all'età di 54 anni Da oltre otto mesi, come aveva ricordato il suo compagno di palcoscenico, Luigi Miseferi, Giacomo dormiva in un sonno profondo dopo essere stato colto da un ictus lo scorso giugno L'attore, infatti, non aveva più ripreso conoscenza anche se in tanti, dagli amici ai colleghi, passando per i suoi fan, speravano di poterlo rivedere nuovamente nel celebre duo protagonista anche il bagaglino Erano gli inizi degli anni 90 quando a stasera Mi Butto Dipingitore, i due attori iniziarono la loro avventura che li portò poi al grande successo, grazie al bagaglino, fino alle numerose altre partecipazioni a svariati show televisivi, andate avanti fino al 2009 Le molteplici esperienze seguite negli anni sia in tv che in teatro resero la coppia comica formata da Giacomo Battaglia e da Luigi, Gigi, Miseferi una delle più note dello spettacolo italiano Tante le imitazioni che accompagnarono la carriera di Battaglia, tra cui quella fortunatissima di Bruno Vespa, nato a Reggio Calabria, si definiva un grande tifoso della squadra della regina Giacomo Battaglia è morto, le parole toccanti di Miseferi solo nei mesi scorsi, dopo un lungo silenzio, l'attore Luigi Miseferi aveva dedicato parole molto toccanti all'amico Giacomo Battaglia, durante un suo intervento alla trasmissione di Marco Liorni, Italia si Il comico, trattenendo a fatica le lacrime, aveva parlato di quell'amico, prima ancora che collega, con il quale aveva condiviso per un trentennio numerosi palcoscenici Negli ultimi anni i due decisero anche di intraprendere carriere separate, pur rimanendo un duo, scatenando la consueta domanda, l'altro dov'è? Negli ultimi mesi è diventata una domanda frequente e mi fa molto male rispondere, aveva detto Miseferi parlando di battaglia Purtroppo a gennaio dello scorso anno gli era stata diagnosticata una terribile malattia per la quale è stato operato Si è sottoposto a cicli di terapia, eppure come un leone ha continuato la tourne con me e Pippo Franco A giugno, al termine di uno spettacolo dove fu perfetto, a distanza di qualche ora è stato colpito da un ictus Da quel momento Giacomo dorme un sonno profondo dal quale non è stato possibile svegliarlo, aveva giunto con immenso dolore Oggi, a pochi mesi da quelle parole drammatiche, il traiste annuncio della sua morte Diritti d'autore riproduzione riservata